Per questo nostro Natale abbiamo voluto scegliere la scuola Michele Bello di Siderno Marina ma per un motivo molto semplice perché qui il Natale i ragazzi lo hanno vissuto attraverso Gentile Aspromonte e la lettura di Corrado Alvaro di questo grande della letteratura calabrese che ha saputo descrivere l'Aspromonte ma anche il Natale nei paesi aspromontani che hanno caratterizzato la vita di quelle civiltà di una civiltà contadina agropastorale. Il tema natalizio di quest'anno che gli insegnanti hanno voluto mettere in scena in questo suggestivo scenario riguarda il rapporto tra la tradizione e la letteratura di Corrado Alvaro. Quest'anno se noi ricordiamo l'anniversario del sessantesimo anniversario della morte dello scrittore principale che ha espresso finora la Calabria e allora gli insegnanti hanno voluto calare la tradizione del presepe attraverso la rilettura di Gentile Aspromonte. Quindi tutto lo scenario che è stato costruito e animato che porteranno avanti attraverso una rivisitazione storico-culturale riguarderanno i luoghi alvariani. Si partirà da San Luca, il luogo storico che è legato alla tradizione alvariana per rimettere in scena attraverso anche una raffigurazione delle immagini del presepe dentro il contesto dell'Aspromonte mettere in scena qui a Michele Bello sia la parte animata che la parte inanimata. Niente, accogliamo con immensa gioia l'ennesima iniziativa da parte delle nostre scuole. Questa è un'iniziativa importante alvaro è veramente una roba elevata di assoluto livello che noi ancora oggi mostriamo a tutti stiamo parlando di uno dei maggiori scrittori italiani di sempre e rimane sempre importante. L'aspetto più importante è che grazie a queste manifestazioni grazie a questo sentimento che la scuola ogni volta dimostra riusciamo a far sentire l'appartenenza a questo territorio perché un territorio non può pretendere l'appartenenza da parte delle sue famiglie, da parte dell'intera comunità se non offre conoscenza, sentimento e lavoro. Da questo punto di vista quello che sta facendo la scuola è un grosso aiuto per noi amministratori e veramente siamo contenti andiamo a braccetto e sposiamo in pieno e facciamo un plauso a questo tipo di iniziative. Il nostro presepe è ispirandoci alle opere di Corrado Alvaro una tematica che è collegata al pit stop che a breve espleteremo con i ragazzi con un altro percorso didattico. Abbiamo tratto l'ispirazione dalle opere di Alvaro infatti se voi girate attorno vedete che in ogni impostazione c'è un'agitazione appunto da Gentina Spermonte dalla madre di Gioia e da altri racconti appunto di Alvaro. Devo dire che i ragazzi sono stati entusiasti appunto dell'idea e questa sera chiuderemo appunto con un recital natalizio appunto sulle pagine di Natale Corrado Alvaro e il presepe la storia e l'eccitazione appunto delle sue opere su questa festa molto attesa. I ragazzi si cimenteranno a leggere in modo espressivo questi brani aliettati dai canti popolari tradizionali che ci sono stati tramandati dalla fonte memoria orale.